musica amici buonasera a tutti buonasera è una vita che non vloggo tipo una settimana scusatemi tanto ma questo non accadrà mai più comunque henry ha un annuncio da fare no annuncio che domani inizierò una dieta che durerà 40 giorni quasi come la quaresima e finirà esattamente il 30 di marzo ok quindi qua ci sarà la prova nel senso che poi andremo a misurarti sulla bilancia allora la pesata ufficiale inizio con 70.3 kg ok per arrivare a? io spero almeno un 3 chiletti in meno così raggiungo cioè effettivamente sarei in peso vabbè niente di drastico comunque non devi perdere no però ritornare un pelino piaciuto quello sì ok e quando sarà il limite di questa dieta cioè la fine per quest'estate? inizierà l'11 di febbraio inizierà domani che è il 12 di febbraio e finirà il 30 di marzo perché il programma durerà 40 giorni e finirà proprio il 30 di marzo che è il mio compleanno ok quindi per il tuo compleanno che ovviamente verrò vloggo porterete una bilancia e mi peserete va bene meno quindi sono 6,67 kg penitenza il tuo compleanno niente regalo va bene ci può stare ok facciamo vedere qua peschiera perché merita e non sono io peschiera peschiera è... no questo è il fiume mincio tu sei Henry peschiera sono Henry peschiera qua c'è il mincio lì c'è l'altro mincio che atmosfera esatto poi c'è l'altro mincio qua al centro fantastico adesso andiamo a mangiare la pizza invece andiamo all'ovale a mangiare la pizza vai dove fanno le pizza a forma di ovale fai la transizione metti la mano sull'obiettivo no così così faccio un bel primo piano al tuo cazzone che battuta eh che battuta Henry invece ha preso l'insalata alla fine mi ha riuscito a essere più pessimo di me perché ha preso l'acqua naturale mia grazie eccola che arriva la legge di parte il crimine buon appetito bro si ma aspetto a mangiare tanto posso aspettare voi a mangiare è un insalato allora abbiamo finito di mangiare e... dici cos'hai mangiato ho mangiato una pizza dove hai mangiato invece la verdura quella con l'acqua naturale o più salutare di così cosa si vuole poi io che ti sfotto cioè io che bevo sempre fanta quando si esce in stride io che ti sfotto io devo stare zitto esatto tu devi stare zitto io invece ho dovuto mangiare un'insalata ma perché avevo voglia di insalata? perché ero pieno e stufo della carne adesso stiamo tornando a casa dopo la pizzata perché sono le 11 e un quarto esatto e... Henry domani deve andare a lavorare esatto una mattina dovrò adesso appena arriverò a casa dormirò tantissimo dovrò svegliarmi alle 7.7 fare una colazione bella bella carica che mi aiuterà tutta la giornata tutte informazioni che la gente che ci ascoltano io ne frega proprio nel merito caaaaa esatto esatto però devo vloggare perché non si possono fare i video due minuti dopo una settimana che non ho vloggato esattamente A proposito di Lonato, io direi che noi siamo quelli della Lo Gang, Lonato Gang E' vero, facendoci caso, noi siamo quelli che hanno fatto una gang a Lonato La Lo Gang E siamo una ventina, siamo una gang Non sentivo sta parola gang da... vai sempre dritto Dai video di 50 Cent Esatto, esatto, dei video di 50 Cent A sinistra? Sì, a sinistra Qui non c'è nessuno Sono le vie della Lonato City Gang Della Lonato City Gang Siamo arrivati alla Y Automacchina Sì, non è questa quella che c'è dietro Sì, intanto non la vedono Esatto Iniziamo con la buonanotte Inizia buonanotte, ricordiamo la challenge mia che inizia la dieta Sì La barba Ah, sì, c'è anche la barba C'è la barba che io non mi dovrò fare la barba per i prossimi 40 giorni Sono i capelli però, almeno quello Perché devo uscire fuori come quello di Negramaro Ah ok, io non lo conosco perché non segui Negramaro Ma faremo un bel photoshop Ma no, tu adesso nel tuo blog Lo metto, lo metto Metti la mia faccia E metti qua a fianco in sovraimpressione Quindi indico già il punto dove dovrò andare Cantante di Negramaro? Lui Ossia il cantante in questo quadrino Lui Che è il cantante di Negramaro Allora bene, così sanno come diventerai E ci sarà la prova Anche qua Prova peso e prova Prova peso e prova Negramaro Vi è una sfida Una challenge Sfidona Sfidona Va buona Niente Siamo con la buonanotte Vloggatore di Gallo Vloggatori Ce la facciamo in serio sta cazzo di buonanotte 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 BAM BAM Buonanotte Buonanotte Buonanotte